Ben trovati dal Tg della mobilità. Dopo le feste 2022 si presenta con un doppio sciopero nel settore trasporti. Sabato sono possibili disagi in ferrovie per una protesta di 8 ore dalle 9 alle 17 dei dipendenti di Trenitalia su tutto il territorio nazionale d'esclusione della Liguria. E venerdì 14 gennaio è annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale a Roma dalle 8.30 alle 12.30. L'agitazione potrà interessare l'intera rete del trasporto pubblico. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.